eravamo partiti in questo percorso dichiarando che il mondo ha fame le parole erano quelle di artò e la fame l'immagine artodiana perfetta la fame crudele non lascia scampo la fame non è nulla al di fuori di se stessa la fame pervade ogni cosa la fame sopprime ogni rappresentazione è il reale in forma distillata meglio gabalo con i suoi petali assassini con le sue quattro madri non ha solo impersonato la crudeltà ma anche l'intarsio e il gioco la fame può essere anche un sofisticato languore anche alberto arbasino infatti si confronta con la figura di elio gabalo un nero volo di uccellacce frenetici attraversa improvvisamente il cielo vertiginoso da sinistra a destra un altro volo da destra a sinistra improvvisamente con un gran sbattere dali in un cielo moderno comunque non storico non d'epoca e subito ancora un altro un altro un altro nero improvviso frenetico da destra a sinistra e immediatamente un altro e un altro da sinistra a destra super elio gabalo super acquarius super star super sex uccellacce anche minacciosi un altro volo per caso ma poi battiti 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 dali uccelli da tutte le parti un altro volo ma poi battiti 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 dali girano voltano girano attraversano il cielo infuocato per caso per caso voltano tornano indietro voltano non torneranno indietro davvero attonito immobile appiattito contro le mura latine come un freggio di bronzo dorato sul primo cassetto di un como impero il corteo imperiale pronta a partire segue con gli occhi straniti questi voli frenetici degli uccellacci nel cielo infuocato sempre più contraddittori e sinistri e poi in direzioni opposte girano tornano indietro voltano vanno avanti comunque si tratta di auspici non troppo fausti no no non certamente fausti per questo corteo imperiale prontissimo a partire ma tutti li fermi ritagliati nella pietra dura o nell'alabastro cammei di corniolo o lava appena fuori le mura davanti alla porta san sebastiano già della bretta le quali come oggi siamo in un'epoca per definizione di decadenza l'oroscopo aperto sta per sconvolgere tra contestazione di senso tutto l'intero corteo forse arrivando addirittura alla scessione delle correnti di minoranza così inizia alberto arbasino il suo non romanzo così si inaugura il super elio gabalo e mi dispiace che non possiate vedere come il vuoto si distribuisce nelle pagine poiché arbasino rende la pagina il cielo in cui volano gli stormi ci scrive sopra un calligramma disegna con le parole anche qui la forma e il ritmo hanno insomma un peso determinante all'infinita profondità dell'esistenza alla crudeltà d'artò arbasino oppone una letteratura come sbago come divertimento assolutamente disimpegnata in quell'italia anni sessanta tanto pensierosa sul futuro un'idea della letteratura completamente diversa da come ce l'insegnano a scuola il messaggio con arbasino cade e si rompe mille pezzetti pezzetti d'immagine pezzettini verbali arbasino è il maestro del riuso della falsificazione tutto quello che passa per la scrittura di questo dandy di voghera diviene falso gioco superficiale bricca bracca e proprio qui sta la sua autenticità si direbbe a prima occhiata proprio il contrario di arto ma in questa autentica falsità si può ritrovare il filo dello specchio l'unione degli opposti il ribaltamento infatti questo è un romanzo verbale e non ci interessa l'esito o l'esempio della favola ma ascoltiamo i suoi a capo le sue circonvoluzioni come si guarda il fumo ma continuiamo a leggere tutti e marescialli alle signore non abbienti con le teste oscillanti a tic tac seguono i voli vorrebbero dire di cotte magari anche di cude o almeno vorrebbero dirla loro ma ecco due squilli di clarinetto sbrigativi tutt'altro che marziali il corteo parte addirittura di corsa si avvia come fuggendo verso la campagna ma roma in fermento ma come sempre secondo gli storici della decadenza però l'imperatore non sta scappando come potrebbe magari sembrare si tratta del suo solito weekend con le sue mamme i suoi ospiti e il suo piccolo seguito solito cioè weekend con delitto però questi delitti vengono normalmente eseguiti durante i weekend al mare così mai durante la settimana in città così lungo il corteo si sfrenano come sempre la congettura il pettegolezzo troppe religioni troppa poca religione troppe distrazioni ma che troppa poca televisione troppo impegno troppa alienazione troppo autoritarismo troppa introspezione troppa senescenza troppa turbolenza troppa trascendenza ma anche troppa non violenza e troppa 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 violenza insomma troppa troppa non comunicazione ma allora la civiltà romana è in crisi ma allora di chi sarà la colpa ma poi chi sarà la vittima di questo weekend insomma lungo il corteo le previsioni le scommesse continuano a sfrenarsi abbondanti ma chi sarà la vittima di questo weekend dietro la lettica imperiale tra i voli di maggiolini e farfalle nell'ombra purpurea elio gabalo continua a versarsi delle medicine molto colorate e molto alcoliche coi misurini coi suoi bicchierini l'imperatore in realtà non è altro che monica vitti con un insano sperpero di lezzi ironici e graziette eccessive continui ammicchi gesti angolari abbondanti dita preferibilmente tra i capelli mani dentro agli scialli quasi mai fuori giochi asimmetrici di gomiti e ginocchia e piedi intrecciati in un'incessante produzione di smorfiette espressionistiche e di inespressive non dice molto per ora ma così da vicino sorpasso allegorie e metafore inaugurando una strategia trasmentale installati in uno statuto di colpevolezza non è vero come si vede arbasino un ghirbizzo certo conduceva nell'universo mentale misterico e ermetico arbasino ci scaraventa nel mondo tutto adesso è osservato in superficie gli stormi il corteo l'imperatore si evoca l'intarsio il basso rilievo arbasino gioca con artò anche lui schegge monumenti e legge gli storici o meglio arbasino fa leggere all'annoiato elio gabalo intrappolato trapassate presente i resoconti storici delle sue stesse gesta la narrazione che altri hanno fatto di lui e della storia super elio gabalo interessa soltanto lui stesso elio gabalo è super perché espanso multiplo sfaccettato se artori cercava l'uno arbasino persegue il plurale la storia in artò come abbiamo visto collassa dentro il simbolo in arbasino la storia diventa un racconto e si può tagliare e cucire l'elenco diventa cifra fondamentale di questo non romanzo da regattiere da colportage questo un romanzo verbale ritmico l'esito è poco interessante lo svolgimento molto di più un cambio di tono una lieve inflessione possono stravolgere il senso qui arbasino si ribalta dentro artò elio gabalo è tutto frivolezze e confusioni il personaggio perfetto per quell'italia che si stava avvicinando a grandi passi verso un mondo nuovo contemporaneo l'interiorità la pesantezza sembrano sparire in uno sbuffo siamo in un mondo quasi televisivo da rivista tutto procede per piccoli frammenti e qua e là fanno capolino alle voci del cortevo imperiale della pubblica opinione a commentare come al bar quello che potrebbe succedere in questa scena molto pubblica forse troppo tutta questa fevolezza tutto questo gioco spietato si sovrappone al mondo l'elio gabalo di cui ci racconta arvasino è ben più annoiato e incline allo svago di quello di artò e lo spettacolo barocco che ci offre sembra ricalcare molto del mondo contemporaneo ma come abbiamo detto nella superficialità di elio gabalo si deve cercare molto di più anche se non l'oscura profondità e la crudeltà ma l'autenticità dell'artificio quello che più contene arvasino e la relazione la differenza tra i vari pezzi del mosaico i loro rapporti reciproci anche per questo l'elenco affascina tanto è la forma perfetta per far circolare un senso autentico ma tutto sulla superficie e su questo crinale rincrociamo il teatro e lo spettacolo nel nostro percorso ma la scrittura i suoi margini la pagina sta stretta a questo imperatore e al suo scrittore non a caso ilio gabalo si lancerà a interpretare un dramma surrealista di jean rin come a suggerire che il corpo e la voce lo sperimentale sono una possibile via di fuga da un quotidiano che già allora stava franando rovinosamente e come per artò anche per arbasino ilio gabalo a che fare con il teatro questo mondo molto italiano sembra spesso sprofondare nel teatrino e nel rotocalco eppure ancora una volta tutto si può riscattare il gioco di struttura di riflessi di circolazione del senso sta ancora una volta nella forma e nel ritmo l'apparenza è l'unica cosa ma è anche il terreno di riscatto del senso basta una leggerissima inflessione della voce e tutto si trasfigura e se la fame che si esaurisce in se stessa che devora tutto era l'immagine perfetta per artò il gioco lo è per arbasino un gioco disinteressato e che non porta nulla e che proprio per questo va giocato artò non può essere interpretato ma capito artò va attraversato e allo stesso modo in arbasino c'è così tanto da capire che forse si farebbe meglio stare zitti a godersi il gioco letteral teatrale che mette su per noi arbasino come artò fa a pezzi il romanzo lo lacera e sceglie come personaggio per questa distruzione proprio ilio gabalo l'imperatore degli atti plateali e misteriosi la letteratura sta stretta non a voce non a corpo solo parole pagine screcchiolanti sotto questi testi lacerati e spaccati allora capolino il teatro col suo rinnovamento per arbasino artò può essere visto come un interlocutore importante da interrogare allo specchio all'incontrario scrive infatti nella sua maleducazione teatrale prima di continuare bisogna fare i conti con artò non si possono rimandare il terribile eretico s'approssima né convitato né tanto meno di pietra al bene ordinato presepio della regia come metalinguaggio s'avventa proprio sulla predisposizione meta la distrugge a grandi colpi furiosi no signori grida artò lasciamo agli scolari sgobboni la critica dei testi una cosa detta una volta non va ripetuta mai più arrendiamoci la constatazione un'espressione non vale e vive due volte ogni parola muore nell'attimo in cui viene pronunciata poi non serve più semmai una forma già usata una volta invita a ricercarne un'altra il teatro è l'unico posto al mondo dove un gesto non si ricomincia mai un'altra volta e se il pubblico d'oggi non comprende più edipo re la colpa è tutta di edipo re non già del pubblico dunque bisogna farla finita coi capolavori sono letterari il pubblico fa bene ad evitarli poiché il capolavoro letterario è un arnese fisso e l'idolatria del capolavoro fisso è un aspetto tra i più sinistri del conformismo borghese siamo giunto alla conclusione di questa chiacchierata ed ecco tutto alle volte il teatro riposa sotto la cenere della letteratura l'avanguardia resiste anche se fa meno rumore di un tempo poiché lo specchio infranto ma anche uno specchio infranto riflette lo stesso